Vi faccio vedere come funziona una truffa online Una delle tante, diciamo Allora, per prima cosa ho trovato su Facebook questo annuncio qui dove si vede questa macchina con il pacco regalo è il sogno che ognuno di noi ha, avere una macchina fuori ad un tratto con un fiocco rosso sopra Allora, questa pagina, che come potete notare mostra un logo e una data questo perché la pagina Range Rover sarà sicuramente stata occupata è stata creata proprio ad hoc per questo tipo di truffa, diciamo così Nonostante sia stata creata da poco, il post come vedete a sole 10 ore ha già 13.000 fan Il post, che mostra la macchina, dice Prima volta nella storia di Facebook Questo per darvi l'idea del fatto che comunque questa è un'occasione che dovete prendere al volo e non è già capitata prima Quindi le truffe di prima in questa frase vanno ad annullarsi secondo gli autori Cerci già a mandare via a questo incredibile Range Rover Sport a qualcuno che condivide questo post e commenta di seguito Grazie Questo per dare una sequenza alla vincita Altrimenti uno direbbe, ah sì, è una truffa, non ci credo Invece con un grazie già la cosa diventa molto più credibile Prenderemo il fortunato vincitore oggi alle 23 Le scadenze nelle truffe sono una tecnica assai usata perché bisogna togliere il tempo per pensare a chi hai di fronte Meno tempo qualcuno ha per pensare più hai la possibilità di comunque di truffarlo La cosa che mi dispiace è che molte persone ignare E anche un po' diciamo così ignoranti Cliccano sulla foto e rispondono comunque Grazie, 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 grazie Il post Ora lo rivediamo un attimo Ha migliaia di condivisioni E Infatti vedete 48.942 condivisioni in questo momento E migliaia ovviamente di commenti Quindi sappiate che in Italia esistono al momento 48.000 persone Che credono di poter vincere una macchina Rispondendo grazie su Facebook Ad una foto dove c'è la macchina con il fiocco Ma veniamo a noi sul punto importante Il punto importante è questo link Dice Convalida la tua registrazione qui In questo modo cosa significa convalida la tua registrazione? Ti dà un'azione da fare Perché io, è ovvio che rispondendo grazie L'utente che casca su questo tipo di truffa Dice Ma come fanno a darmi la macchina Se non hanno il mio indirizzo con un solo grazie? Ecco come faccio Ti faccio convalidare la tua registrazione Già utilizzo termini che non c'entrano Convalidare registrazione Non ho fatto nessuna registrazione Perché la dovrei convalidare? E subito dopo dice Come la nostra pagina per gli aggiornamenti Anche qui errore di grammatica Che in un certo senso Ci sono persone che non notano Perché purtroppo la grammatica non la si conosce Questo è il senso di studiare Insomma Va bene Se io apro questo link Mi porta fuori da Facebook ovviamente L'ho aperto già prima Me lo sono preparato qui Mi porta su una pagina dove c'è scritto Vinci una Range Rover Sport Registrazione Quando mettete il cursore del mouse sul link Notate che in fondo in basso a sinistra Ti dà l'anteprima del link che stai a aprire In questo caso mi sta per aprire una pagina con estensione .html Quindi è una pagina statica Quindi vuol dire che è sempre uguale in qualsiasi caso Se io vado a cliccare Mi dice La tua registrazione è confermata Per magia è confermato Si può andare avanti Quindi ci sei Stai facendo la cosa giusta Faccio notare che se vado indietro e rischiaccio registrazione La mia registrazione è comunque confermata A questo punto capita la truffa subdola Ovvero Grazie Hai la possibilità di vincere gratis iPhone 11 Pro 500 Dal nostro partner Amazon Tocca qui sotto per vincerlo Questo perché? Perché chi partecipa a una roba del genere Sai che probabilmente la macchina la vincerà proprio uno su un milione Nella sua fantasia E quindi non metterà molte speranze Ma un iPhone è molto più È un oggetto che costa molto meno Quindi c'è molta più probabilità di poterlo vincere E quindi fa più golo un iPhone Proviamo ad fare questa richiesta Proviamo a toccare qui sotto per vincerlo come ci suggeriscono loro Io lo aprirò con una finestra di navigazione all'incognito Per evitare eventuali Ecco qui Mi si apre davanti una pagina che sembra praticamente la pagina originale di Amazon La prima cosa che notiamo è il logo Il carrello vuoto La data Vi faccio notare che se io faccio un click sul logo e lo trasporto Mi rivela che di fatto è un'immagine Quindi questa è una pagina fake Costruita apposta È un sito rifatto simile diciamo così ad Amazon Fatta apposta perché tu creda di essere sulla pagina ufficiale di Amazon E quindi tu dia serietà a tutto questo ambaradam che stai per vedere La scritta congratulazione oggi 19 giugno 2020 Questo è ottenibile grazie a un piccolo codice che dice metti la data qui Sei stato scelto per partecipare a questo sondaggio Non sono stato scelto Ho cliccato io Ma poco conta Perché qui l'entusiasmo Io ve lo sto spiegando lentamente Ma questa è un'operazione che uno potrebbe compiere in meno di 5 minuti Quindi l'entusiasmo ti fa saltare tutti questi preamboli Abbiamo il nostro cellulare Abbiamo queste domande Abbiamo dei secondi che stanno per scadere E abbiamo delle risposte date a caso Da parte di persone che se io vado a cliccare Non sono nemmeno cliccabili Proviamo a dare le nostre risposte Io dirò che sono una donna Dirò che ho 50 e più anni Dirò che ho Quanti ci sono da tua famiglia? Uno Dai mettiamocene uno Ah ma hai comprato Apple iPhone? No Domande a caso Giusto per dare un minimo di partecipazione Stanno controllando le risposte Dal mio indirizzo IP non risulta il precedente di sondaggi Anche se l'ho fatto prima Siamo pronti a giocarci il tutto per tutto Congratulazioni Abbiamo validato collettamente le tue risposte E casualmente abbiamo la possibilità di vincere un premio Ora vi dimostrerò come la magia può essere realtà E come l'illusione può essere la realtà che vi frega Io clicco su ok In questo momento ho tanti pacchi su cui cliccare Sul primo pacco che cliccherò Automaticamente perché l'ho già fatto prima Non vincerò nulla Et voilà Oh ma hai un giro extra E questa è la vera possibilità Il giro extra Perché magari uno dice Sì non ho vinto la prima ma proviamo con questo giro extra E stranamente quando vado a cliccare il giro extra Tada Appare il mio iPhone Ragazzi tra milioni di tentativi Migliaia di condivisioni proprio tu ce l'hai fatta O almeno questa è l'illusione Ecco qui La scritta ce l'hai fatta Congratulazioni Hai vinto un'app per iPhone 11 Facilissimo Ci sono voluti tre clic Le regole Qui la questione si fa seria Perché da questo momento in poi Se chi ti sta truffando ce la fa Ha compiuto il suo obiettivo Altrimenti sarà stato quasi tutto inutile Le regole che saranno indirizzate a un sito web Inserisco il mio indirizzo E paga 1,95 euro Per la spedizione Per ottenere un iPhone 11 1,95 euro Una spesa irrisoria Proviamo a cliccare su ok E ad un tratto Il sito cambia Non siamo più sul sito Amazon Siamo su questo sito Chooseandwinit.com Offerte cyber Un font messo così Senza più loghi Queste sono pagine costruite anche male Almeno la pagina di prima Era costruita anche meglio Attenzione Ci sono solo 4 iPhone disponibili A solo 1,95 euro Ebbene sì signori 3 disponibile Sta diminuendo la disponibilità Quindi bisogna muoversi Vedete il fattore tempo Come continua a ripetersi E continua ad essere Una costante in questo tipo di truffe La vera truffa è proprio qui Nell'inserire il proprio nome Cognome Indirizzo e cap E ovviamente Per pagare 1,95 euro Per farmi arrivare l'iPhone Dovrò dare i dati Della mia carta A quel punto Gli interessati Malevoli Che stanno dietro ai monitor A cercare di fare queste fregature E credetemi Ci riescono in molti casi Avranno il vostro nome e cognome Il vostro indirizzo I vostri dati E soprattutto I dati della vostra carta Perché sinceramente Se uno arriva su un sito del genere E non si è accorto Che tutto questo è una fregatura Non si accorgerà nemmeno Che mettendogli i dati In questa parte qui Quelli della carta compresi Non andranno sicuramente A farvi arrivare Un iPhone a 1,95 euro Ma andranno a fregarvi Quei soldi Quindi signori Attenzione alle truffe Fate sempre caso a una cosa Le occasioni facili Sono sempre e comunque Una truffa E anche quando qualcuno Vi promette dei soldi Vi promette di guadagnare Via web E quant'altro Fatevi sempre la domanda Se mi stai promettendo Di guadagnare milioni di euro Perché stai lavorando E lo stai facendo Se già hai potuto tu Guadagnare milioni di euro Come mai devi perdere ancora tempo A trovare qualcun altro Che abbia voglia di farlo E in questo caso Se mi stai regalando Un Apple iPhone 11 Ma me lo puoi regalare a 2 euro Devo essere uno sciocco Per crederci Ebbene sì Signori Fate sempre attenzione A questo tipo di Grazie